Sono state discusse questa mattina presso il Tribunale della Libertà di Potenza le istanze presentate dai legali dei giovani tutti del Golfo di Policastro finiti nei fascicoli dell'operazione Frecciabianca, un blitz antidroga condotto dai carabinieri della Compagnia di Sapri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lago Negro che portò all'alba dello scorso 7 agosto all'esecuzione di 24 provvedimenti, 6 custodie cautelari in carcere, 8 arresti domiciliari e 10 sottoposizioni all'obbligo di dimora. Sono stati proprio quest'ultimi stamattina a comparire dinanzi ai giudici del riesame. I legali delle difese hanno presentato le richieste per i loro assistiti e confidano in un alleggerimento delle pene. I 10 giovani, molti dei quali incensurati, ritenuti di essere componenti seppur marginali della banda adedita allo spaccio di sostanze superfacenti nell'area più a sud della provincia di Salerno, da un mese e mezzo circa sono gravati dall'obbligo di dimora nei comuni di residenza e dalle 20 alle 7 non possono allontanarsi dalle rispettive abitazioni. Istanza di riesame questa mattina anche per Nicola Brandi, ritenuto dagli inquirenti il corriere della droga e che pertanto si trova in stato di arresto. Su tutti i giudici si sono riservati di decidere. Fino ad oggi le posizioni dei 24 coinvolti sono state tutte convalidate e con la notifica degli avvisi delle conclusioni delle indagini si procede spediti verso l'udienza preliminare.